Le domande che tu intendevi pormi erano orientate sostanzialmente su due punti. Il primo, come evitare che la crisi sanitaria si trasformasse in una crisi economica troppo lunga e pesante. In particolare, se dalle evidenze dei mesi di marzo e aprile si potevano riscontrare delle difficoltà dell'economia italiana superiore a quelle degli altri paesi europei più vicini, in termini anche di durata e di impatto del lockdown. Direi che certamente la crisi economica sarà lunga e pesante, qui non dobbiamo farci illusioni, quindi dobbiamo più che altro cercare di capire come non essere troppo lunga e troppo pesante. Quali interventi possono quindi andare a mitigare l'impatto della recessione che fatalmente si sta abbattendo sulle nostre economie in tutto il mondo occidentale, ma anche a partire dall'Asia dove è originato il virus, dalla Cina in particolare. Il problema è quindi quali misure di politica economica potranno in parte compensare le previsioni che abbiamo sentito anche prima da una precedente relatrice, sono molto negative. Si va da previsioni come quelle del Fondo Monetario, un po' più ottimistiche a quelle già più pessimistiche della Commissione europea, fino alle previsioni di diverse banche e istituzioni che addirittura prevedono per la stessa Germania un calo del PIN nel 2020 superiore al 10% e conseguentemente con l'Italia che può addirittura avvicinarsi al 15% o superarlo. Le misure più urgenti sono anche collegate all'impatto forte che questo lockdown ha generato sul sistema dei pagamenti tra le imprese e sul problema di liquidità delle imprese. Il nostro lockdown è stato più lungo e pesante? Certamente sì nel mese di marzo perché siamo partiti prima degli altri, d'altro canto la produzione industriale a marzo ci dice l'Istat è caduta su febbraio del 28,4%. Se facciamo un confronto con la Francia, qui la produzione industriale è scesa del 16,2% con una settimana di lockdown in meno rispetto a noi. Il più difficile da interpretare è il dato spagnolo perché anche la Spagna è stata molto colpita dal coronavirus come l'Italia in maniera molto forte, ma il calo della produzione industriale spagnola a marzo è stato su febbraio solo dell'11,9%. Indicatori reali come i consumi di energia elettrica e gli spostamenti registrati da Google Map verso le postazioni di lavoro ci dicono che in Germania il calo dell'attività produttiva è stata sicuramente inferiore durante il mese di marzo e i primi dieci giorni di aprile di quanto non sia stata in Italia. Comunque in generale la crisi è stata forte ovunque e in particolare in Italia si sta presentando un problema molto più forte che in altri paesi di liquidità per le imprese. Un po' perché in altri paesi le procedure per ottenere prestiti con garanzia statale è una procedura molto veloce, non c'è bisogno di citare la Svizzera ma basta vedere la Francia dove mi dicono importanti imprese italiane che operano in Francia e con la compilazione di un paio di moduli si riesce ad avere, anzi di un solo modulo, si riesce ad avere in un paio di tranche la somma richiesta nel giro di una decina di giorni. Mentre in Italia, sto parlando di grandi cifre, mentre in Italia si rilevano ritardi notevoli anche nell'ottenimento di somme come i 25 mila Euro da parte delle imprese più piccole. Qui a mio avviso è necessario che il processo di erogazione della liquidità con garanzia statale sia cederi e in modo particolare siccome esiste una centrale rischi è molto facile capire quali sono i clienti in bonus, per i clienti in bonus non ci dovrebbe nemmeno essere la procedura di valutazione del merito di credito qui dovrebbe essere automatica a mio avviso l'erogazione della liquidità. Per quanto riguarda i clienti incagliati invece si potrebbe in qualche modo contenere l'esame della pratica in 5 giorni, cioè in un periodo breve, altrimenti tutta questa procedura si incaglia con ostruzionismi burocratici di ogni genere. E' molto importante anche a mio avviso l'aspetto della valutazione della continuità aziendale. Le banche, siccome erogano i prestiti su lunghi periodi, non possono essere strettamente vincolate da questo obbligo dell'esame della continuità aziendale. Questo obbligo dovrebbe essere valido per poco tempo, diciamo massimo un anno, dopodiché dovrebbe essere in qualche modo sollevata la banca dall'onere di valutare se la continuità aziendale esiste tra 2, 3, 4, 5 anni. A mio avviso sarebbe anche molto importante potenziare l'opera dei confidi, sia permettendo un accesso al capitale delle banche, sia pure per evitare conflitti di interessi con una partecipazione minoritaria delle banche stesse, senza avere un ruolo o una voce in capitolo importante negli organi direttivi, ma anche con un'eventuale patrimonializzazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti dei confidi stessi. Poi chiaramente bisogna avere un occhio di particolare riguardo anche in termini di, nella fase di riapertura, anche in termini di normative sul distanziamento sociale di quei settori che sono già stati così drammaticamente colpiti come il settore del turismo, alberghi, ristoranti, bar, fino alla cura della persona, parrucchiere, estetisti. Bisogna considerare che c'è una proliferazione di ipotesi su come deve avvenire la riapertura, il distanziamento tra i tavoli dei ristoranti, l'utilizzo di materiali e di sanitari da parte di parrucchieri, piuttosto che addirittura la sanificazione degli ambienti nei vari locali che ospitano queste attività. C'è una confusione tale in merito a questo punto che molti si stanno chiedendo se riescono a starci con i costi nel momento della riapertura, soprattutto i piccoli e medi imprenditori. Bisognerebbe cercare di non oberare burocraticamente la fase di riapertura con delle normative quasi incomprensibili da parte degli operatori. Questo direi è un po' il clima della riapertura. Un altro punto fondamentale per evitare che la crisi economica sia troppo lunga e troppo profonda, soprattutto per quanto riguarda il nostro Paese, è legato alle scarse possibilità di manovra della politica economica, stante il fatto che i consumi delle famiglie difficilmente si possono sostenere in questo momento se non con interventi tampone. C'è un crollo della domanda privata, c'è un crollo non solo del consumo di beni, prendiamo per esempio settori come quello dell'auto, settori come quello dei mobili, andranno incontro a delle difficoltà obiettive nel campo dei consumi dei beni non durevoli, ma c'è anche un problema di caduta del potere d'acquisto che non potrà essere evitato e anche un problema di caduta del consumo di servizi. Le stesse vacanze, i viaggi sono tutte cose su cui è molto difficile prevedere le modalità di spesa delle famiglie nei prossimi mesi. Quindi con una domanda privata, dal lato delle famiglie molto in difficoltà, dal lato delle imprese pure, perché ovviamente solo le imprese più solide potranno permettersi di fare ulteriori investimenti in macchinari, tecnologie, in progetti tipo l'industria 4.0, che pure vanno sollecitati anche con una continuità. Quindi bisognerebbe dare delle indicazioni precise alle imprese sul fatto che i processi di sviluppo tipo l'industria 4.0 e l'impresa 4.0 proseguiranno nei prossimi mesi. Se possibile bisognerebbe dare addirittura degli incentivi maggiori, a mio avviso, a quelle imprese che non stanno usufruendo della sospensiva nel pagamento delle tasse, per esempio, invece di dargli solo una menzione speciale con un gagliardetto tricolore, si potrebbe dare alle imprese che pagano le tasse, utilizzano la sospensiva, di poter avere eventualmente degli incentivi fiscali maggiori sull'avvio di investimenti tecnici e in ricerca e sviluppo. La cosa più importante, visto che la domanda privata è ferma e rimarrà ferma, anzi rimarrà in grande pesantezza, è quella di immaginare di dare rilancio agli unici due settori su cui si può intervenire rapidamente. Uno l'edilizia privata, positivo questo eco bonus al 110%, anche se ancora molto indistinta alla sua formulazione, vedremo nei prossimi giorni quando partirà questo decreto maggio, in che cosa consiste esattamente e come si potrà applicare. E poi c'è, a mio avviso, la necessità fondamentale di far partire, di sbloccare le opere pubbliche, almeno quelle di più grandi dimensioni, il cui avvio e la cui realizzazione in tempi molto concentrati sullo stile del Ponte di Genova potrebbero compensare il crollo del PIL che fatalmente sarà generato su altri fronti di domanda e di produzione. Le opere pubbliche importanti, già cantierate, che si potrebbero attivare sono tantissime, si va dalla Gronda di Genova alla Nuova Diga del porto di Genova stesso, l'autostrada Asticuneo piuttosto che all'alta velocità e all'alta capacità sulla linea ferroviaria che da Brescia va fino a Trieste, l'autostrada Tirrenica, la superstrada Valsugana-Bassano, il megalotto 3 della statale 106 Ionica, la linea ferroviaria Palermo-Trapani che è interrotta, l'alta velocità di rete Palermo-Catania-Messina, sono tantissime le opere che con criteri emergenziali, stante la situazione, potrebbero essere attivate con procedure rapide di nomina di commissari, controllo ovviamente dell'anticorruzione, ma con procedure estremamente snelle per quanto riguarda anche il completamento degli appalti, con la possibilità, una volta che l'appalto viene deciso, che i ricorrenti, se hanno ragione, vengano ripagati in seguito, ma l'opera non si interrompa. Quindi sono tante le possibilità per poter almeno sul fronte delle opere pubbliche impedire che la nostra caduta del PIL si avvicini più al 15-20% e che non rimanga invece dell'ordine del 10% massimo, come prevedono più o meno le istituzioni internazionali e il DEF che immagina un calo del PIL intorno all'8%. Grazie.